104 anni fa, il 4 novembre 1918, la firma dell'armistizio con gli austro-ungarici poneva fine alla Prima Guerra Mondiale. Il 4 novembre è la festa nazionale dell'unità e delle forze armate e molti comuni del Bassanese hanno celebrato questa ricorrenza assieme agli alunni delle scuole paesane. Sono due o tre anni che abbiamo deciso di fare il 4 novembre e il 25 aprile proprio con le scuole, anche perché dobbiamo passare a loro quei valori che la Prima Guerra Mondiale o la Seconda Guerra Mondiale o tutte le guerre ci hanno tramandato. Mi auguro che loro che sono il presente ma soprattutto il futuro sapranno portare avanti questi valori e riuscire finalmente a trovare la pace. Corone, deposte e omaggio al Monumento ai Caduti. Io volevo ricordare ai ragazzi delle scuole oggi che i nomi che sono impressi su questo monumento sono gli stessi nomi e cognomi che loro sentono tutti i giorni in famiglia nel paese. Anche Romano Dezzelino fra oggi e sabato ha organizzato diversi momenti di commemorazione e ricordo con alza bandiera, deposizione delle corone e sfilamento fino al municipio. A Mussolente celebrazioni con le scuole elementari sia nel capoluogo che a Casoni e all'imbocco della via del milite ignoto.